Buona anche la sesta, come in occasione del recente match casalingo contro Udine, soffrendo ed in pieno stile Fortitudo. Primato consolidato, bianco-bluo ancora a punteggio pieno e che si trovano già più quattro dal terzo posto in classifica, in virtù del contemporaneo stop di Forlì a Ravenna nell'altro anticipo del sabato sera. Fortitudo compatta nelle difficoltà che in questa circostanza si sono manifestate in maniera evidente quando i bolognesi, a tre minuti dalla sirena di fine terzo quarto, si sono ritrovati sul meno 11, 49-60, contro una mantova venuta a giocarsi dal paladozza a viso aperto e che stava beneficiando della serata di grazia di Raspino e Visconti. A quel punto però ecco riemergere la fortitudo in cui tutti si aiutano per il bene comune, rispettando al meglio il proprio compito e facendo sempre la cosa giusta al momento giusto. Cincerini e Esbruck diventano autori di un ultimo quarto pressoché infallibile, la squadra si stringe in difesa grazie anche all'energia di Fantinelli e piazza un break di 28-11 capace di stordire un'avversaria costretta a limitare le sue rotazioni a sette giocatori per via dell'assenza del playmaker vencato. Molto buono in chiave bianco-blu il rientro di Fantinelli e positivi anche i primi minuti di campionato per Capitan Mancinelli, al quale va ovviamente concesso il tempo necessario per riprendere piena confidenza con il ritmo partita. Anche tutti gli altri giocatori schierati da Martino vanno a rimorchio dei già citati e la partita si ribalta, cambiando padrone in un ristrettissimo spazio temporale. E così, dopo i liberi del pareggio di Fantinelli a quota 65, è proprio Esbruck a salire in cattedra, piazzando un paio difendenti che chiudono virtualmente la contesa sul 78-69 con ancora 4 minuti da giocare.